Buongiorno, ancora non mostro la mia faccia ma il canale è sempre questo e sono qua perché prima ho pubblicato un video che ho fatto visto che ho trovato una gatta qua sotto e mi sono proposta appunto di continuare a monitorare la situazione di questi gatti che sono davvero malati se non che sono stata costretta appunto a mettere tutto online pubblicamente riferito su youtube perché proprio questa cosa di essere così trattata da alcune persone che mi stanno continuando ad offendere semplicemente perché ho fatto ciò che non hanno fatto loro non va bene quindi io vi spiego intanto che cosa è successo allora ci troviamo come nel video avete visto prima di fronte al comune di Bosa a gennaio 2016 io ho iniziato a segnalare un gatto che è questo qua io l'ho ribattezzato gatto malatto ho iniziato a segnalare in realtà anche da agosto dell'anno prima perché abbiamo comunque delle foto l'avevamo segnalato a una gattara della zona che ha 44 gatti lei aveva detto che avrebbe contattato comunque se ne sarebbe occupata lei questo gatto ovviamente è peggiorato fino a che a gennaio proprio 2016 ha aggredito un altro gatto della zona un gattino che veniva sempre da noi a casa mia comunque appunto il gatto è stato gravemente ferito in questo qua e quindi l'ho recuperato io perché è tornato a casa appunto i gatti di colonia si affezionano poi questo non era neanche di colonia perché a quanto pare aveva una proprietaria appunto perché chiedendo abbiamo chiesto e aveva una proprietaria aiutata appunto dall'associazione Sperazampetta con due cani adottati da loro uno operato anche dal vecchio veterinario queste erano le condizioni del gatto ora nel video magari non si vedono bene poi faremo un video di sole foto comunque queste foto sono state mandate anche alla ASL al comune insomma con le segnalazioni eccetera questa è poi la ripresa del gatto le sue cure e tutti i problemi che sono subentrati dopo oltre all'aver scoperto che comunque era FIV positivo ecco queste sono le prime ricevute tutte ovviamente a spese mie ok cosa faccio? riconosco che c'è un gatto molto malato non sterilizzato che aggredisce gli altri c'è tutto questo bordello ci sono le scuole elementari vicino ci sono gli asili il gatto gravemente malato sta nel mio ve lo faccio vedere orto sempre e spesso allora vado a segnalare ma prima di segnalare chiedo tutta una serie di informazioni a Sperazampetta quindi mi metto in contatto con la vecchia Sperazampetta specifico non la nuova Sperazampetta quindi parliamo appunto di 2016 e 2017 non 2018 e appunto c'erano altre persone all'interno dell'associazione se non che questa segnalazione non è assolutamente stata presa in considerazione ma questa segnalazione io l'ho fatta appunto dopo che ho comunque scritto una lettera all'EMPA perché appunto per segnalare una grave situazione di malessere ferino dopo aver parlato appunto con la polizia municipale insomma ho cercato di fare la procedura ho avvisato i vigili in genere si avvisano i vigili per queste cose fidandomi di Sperazampetta che mi stava dando delle indicazioni sempre della vecchia vicepresidente che attualmente è vicepresidente quindi parliamo solo esclusivamente di questa persona perché è lei che si occupa di gatti poi cosa succede passa un anno io curo il gatto a spese mie recupero altri gatti continuo a monitorare i gatti ho altre foto in un hard disk allora questo è il gatto sempre il famoso gatto l'ultimo avvistamento l'ho fatto proprio un anno fa era il 9 maggio e poi è sparito non si è più visto eccolo questo appunto è là sotto mi dispiace per le targhe ma non ho tempo questa è la gatta che abbiamo ripreso prima che appunto stava sempre in contatto con gatto malato allora adesso questa è la condizione del gatto io lo riprendo da qua ma poi pubblicherò ovviamente il video che avevo comunque già pubblicato sulla pagina facebook dell'empa questo è il gatto stremato io non ho mai potuto catturarlo perché forse in questa situazione avrei potuto farlo con un telo ma il gatto ovviamente morde ci sono persone qua che hanno gabbia e trappola che hanno anche l'assicurazione perché quando sei in un'associazione devi per forza avere l'assicurazione e quindi ho cercato di contattare tutti in due anni ma nessuno è venuto a prenderlo questo gatto e comunque potevano catturarlo ovviamente le persone di Sperazampetta perché con una gabbia e trappola si sarebbe riusciti tranquillamente questo è uno al di là del fatto che l'amministrazione non è vero che non ha dato niente a Sperazampetta ha dato molto e poi vedremo che cosa ha dato oltre la convenzione per il trasporto come c'è scritto nel regolamento e altre cose questa appunto è la gatta che ho ripreso prima che stava anche lei molto in contatto con gatto malato e l'altra gatta che appunto stavo seguendo prima che è la mamma dei gattini che io poi ho recuperato sempre l'anno scorso ecco qua siamo davanti alla casa dove sono passata prima dove c'è la signora che dà da mangiare a questi gatti adesso anche lì c'è una situazione un po' particolare non è mio compito parlarne e a me interessa che qualcuno della protezione animali prenda in considerazione questo sperpero di soldi e di non cure effettuate di continuo maltrattamento dei gatti in strada sempre in quella zona andiamo a recuperare una cucciolata che è quella che ho io adesso la mamma è questa qua quella di prima cosa succede? perché mi sto lamentando? mi sto lamentando perché questi fantastici gattini sono felve negativi probabilmente allora facciamo così il primo gatto che io ho recuperato che è stato aggredito da quel gatto arancione malato che l'anno scorso il 9 maggio e poi è sparito e non è mai stato appunto curato nonostante ci fosse a quanto pare una convenzione tra il comune di Bosa e la clinica a due mari e questo è un altro punto che gradirei qualcuno mi spiegasse ma io ho continuato a segnalare l'anno dopo con una segnalazione un po' più specifica perché la prima in effetti era abbastanza scritta male e questa è l'altra segnalazione se volete mettete un fermo immagine comunque le metterò in foto non c'è bisogno di una segnalazione segnalo un gruppo di 15 gatti randaggi vendi elenco che sostano tra Corso Garibaldi via Martini la maggior parte hanno malattie infettive parassitarie generiche vedina legato test campione eccetera questo fatto ovviamente registrato tutto chiedo di prendere provvedimenti di fare un controllo regolamento ovviamente ho letto tutto il regolamento comunale le linee la delibera e mi è stata consigliata questa all'interno dell'ASL dal personale dell'ASL di Oristano di andare a controllare tutte queste cose ho preso il regolamento di Bosa che adesso non ho qua e ho contattato ovviamente tanti veterinari prima di andare a scrivere tutto ciò e poi stavo andando appunto avanti per cercare di proporre un'organizzazione un progetto di intervento rendendomi disponibile con lo spazio che fortunatamente era qua e niente avevo richiesto appunto di accertare sempre due zone qua c'era anche Bosa Marina ma questa non è registrata al protocollo quindi però cosa succede non sono mie opinioni succede che il primo gatto recuperato testato all'interno della clinica a due mari e risultato FIV positivo test ovviamente a spese mie poi e abbiamo qua tutta la documentazione del gatto appunto esami urine non mio ovviamente fatto da ancora da un altro veterinario per cui questi animali sono stati visti da più veterinari ecco quindi sito FIV positivo recuperato qua in zona Tino uno dei gattini ne ho potuto testare solo uno però l'ho sterilizzato anche a spese mie perché lui teoricamente dovrebbe trovare una famiglia altra questione questa delle sterilizzazioni da chiarire e appunto poi da un'altra zona da via Carmine che è stata spostata a Bosa Marina c'è anche l'altra gattina la ciofechina che la dottoressa poi aveva chiamato lingua di mare sterilizzata tramite comune tramite spera zampetta per la quale appunto ho pagato abbastanza e mi è stato appunto anche mi è stato fatto firmare un preventivo di sicurezza è stata testata e anche lei è FIV positiva quindi abbiamo già tre gatti campione via Carmine che poi è andato a Bosa Marina qua la zona c'è FIV e FELV senza considerare appunto che nelle mie immagini e ho anche chiamato un veterinario sul luogo riprendo proprio gatti con chiazze di pelo mancanti il veterinario dice che è dermatite da pulci speriamo e comunque le pulci ci sono è ovvio perché questi gatti nella pratica non sono monitorati quindi appunto i gatti vanno monitorati soprattutto vanno tolti dalla strada quelli che già sono anche messi ma cioè in qualcosa bisognerebbe non si gestiscono così le colonie feline questi sono altri gatti che appunto sempre nel 2016 no nel 2000 adesso non ho bene la data ecco la bianca e nera è sparita e questa c'è mantello calico c'è gatto malato poveraccio morto e la bianca non si sa dove sia andata a finire erano 15 gatti anche fotografati eh questi sono altri gatti e questo è un povero gatto che ancora c'è perché l'ho visto l'altro giorno ha la coda tagliata e un occhio cavato stupendi questa qua spero si sia spostata verso la colonia di Santa Filomena mi sembra di aver visto spero sia lei e niente ne abbiamo altri ne abbiamo altri ci sono tanti altri gatti appunto io non vado poi a documentare tutto io mi ci sono semplicemente ritrovata in questa situazione perché appunto come potete vedere qua ecco i gatti venivano a litigare nella mia area privata e anche nell'area condominiale perché appunto è di tutti quindi abbiamo adesso non le tiro fuori anche perché non so bene dove siano andate a finire le foto ecco che dove ci sono ecco lì anche i gatti appunto e questa è la mamma dei gattini sempre qui sotto li abbiamo anche da un'altra parte ah questa è un altro gatto ancora gigante che sembra quasi quasi essere la mamma di tutti e sarà la nonna dei miei gattini non so anche lei ha delle grosse chiazze nella pancia cioè lateralmente però nel fianco di pelo mancante e queste stesse chiazze le ho ritrovate anche in gatti in un'altra zona che è nella zona appunto dove abitano i miei genitori per cui so bene quello che sto dicendo poi andiamo avanti ho fatto anche una richiesta agli altri amministrativi giusto così veloce veloce per vedere la questione delle sterilizzazioni appunto perché io poi ho fatto adottare a una persona di famiglia un gatto trovato in strada piccolino e gli è stato sterilizzato da sperazampetta e se non che questo gatto è microcipato ASL ovviamente e io adesso la proprietaria insomma deve andare in Svizzera in Svizzera bisogna avere il passaporto e a me è stato detto appunto da questa persona che si occupa di gatti all'interno di questa associazione che non c'è bisogno del passaporto allora sono andata all'ASL e ho chiesto la documentazione per il passaporto e ovviamente in Svizzera per entrare ci vuole il passaporto per l'animale almeno che non lo si nasconda da qualche parte ma chi va con i mezzi è difficile nasconderlo e questo è tutta la procedura che si deve fare sia per gatto che per cane e niente questi appunto sono sempre abbiamo ovviamente anche abbiamo creato un collettivo non ancora un'associazione perché non ci interessa noi volevamo appoggiarci a già a chi già c'è semplicemente noi abitiamo qua abbiamo i gatti qui è casa nostra e non tolleriamo più che ci vengano dette queste cose io personalmente ma proprio è stato anche un attacco contro il comune di Bosa il comune di Bosa ha dato una stanza in via Carmine dove poter installare i gatti e se non sono soldi è una stanza è una stanza dove potevano mettere i gatti come mi sono costruite le gabbe io dentro casa mia potevano farlo loro perché ci vuole veramente poco e tenere i gatti divisi e testarli punto primo proprio perché è dimostrato dalla clinica a due mari dalla città giardino che i gatti hanno la five la felve e ne hanno anche testati altri non solo quelli che ho portato io quindi non diciamo le bugie e niente poi appunto abbiamo il problema di della rogna delle micosi e abbiamo il problema che vogliamo un controllo dell'asl delle guardie zoofile perché la questione colonie feline è veramente diventata un problema igienico sanitario non per il resto a me non riguarda la questione che non mi interessa io mi occupo non mi occupavo di colonie feline adesso ho iniziato da due anni a occuparmi e le finirò di sistemare di due colonie feline in particolare sempre nei video che io sto pubblicando in questo canale è stata sterminata anche una colonia a bosa marina questo ve lo sto realmente presentando come problema reale che esiste nel momento in cui le persone ritrovandosi circondate da gatti con chiazze con rogna e purtroppo mettono veleno ricordiamo che ci sono anche o ci sono state delle indagini della guardia forestale per cui non stiamo dicendo fesserie io continuerò a scrivere e a pubblicare dei video con il più possibile del materiale chiaro e vorrei appunto prepararmi per quest'estate perché non sono riuscita fino adesso spendendo tutto di tasca a fare grandi cose perché comunque ci vuole una bella festa di autofinanziamento perché i soldi effettivamente per curare i gatti anche solo gli antiparassitari o comunque sia i soldi che il tempo che uno investe in strada il monitoraggio va fatto e i gatti vanno curati e c'è un regolamento comunale che è stato scritto e che dice che nel caso in cui i gatti stiano vivendo una situazione che può lesionare il loro benessere eccetera o sono in pericolo vengono spostati questo è scritto nel regolamento comunale appunto del comune di Bosa che potrete trovare ovviamente sul sito del comune di Bosa io vi ringrazio se avete delle cose da dire potete contandarmi in privato ma anche scrivere pubblicamente perché tanto la cosa importante è che io ancora non voglio mettere la mia faccia anche perché sono stata accusata di ricercare visibilità quindi la visibilità io la sto dando ai miei gattini miei che non sono miei sono sotto la mia tutela sono i gatti di Bosa sono i gatti delle colonie feline di Bosa non sono né di persone che abitano qua intorno c'è un responsabile tra l'altro che si è intestato la colonia e per legge cerchiamo di far rispettare le leggi su chi si è intestato la colonia molte persone probabilmente non sapevano neanche che mettendo il loro nome per riconoscere la colonia sarebbero avrebbero dovuto appunto rispettare la pulizia in prima cosa insomma in primo luogo e poi appunto non sapevano probabilmente che a livello legale sarebbero stati responsabili comunque di tutta questa situazione e poi ho fatto questo appunto fondamentalmente perché l'associazione continua a prendere i gatti che trova in strada sì vabbè non si potrebbe fare in realtà darli in adozione però lo fanno ma almeno io dico testateli perché non è bello fregare una persona dandogli un gatto ancora ancora fiv ma felv positivo la felv è la lucia mefelina adesso ho trovato anche un veterinario che fortunatamente spiega in che cosa il gatto va incontro avendo la felv o la fiv in modo che si possano fare delle adozioni consapevoli e poi ovviamente abbiamo il progetto del rifugio fiv felv che è già metà costruito è piccolo lo vorremmo ingrandire e dare ad ognuno di voi appunto la possibilità di partecipare a questa cosa grazie per adesso buone vacanze a bosa se avete cani occhio dove li fate passare bosa comunque è sempre bella e magari da qua a luglio riusciremo un po' a pulirla grazie a tutti